La proposta di riforma del processo penale è pronta, è depositata da ottobre, siamo però di fronte a un paradosso che il resto della politica ad eccezione del Movimento 5 Stelle dice che la prescrizione non va bene perché dobbiamo occuparci di accorciare i processi, lo stop alla prescrizione, altrimenti i processi durano una vita, però poi dopo non vuole affrontare la riforma del processo penale che è depositata. La notizia dell'accordo che è stato raggiunto all'interno del governo mi sembra una buona notizia perché il 7 di gennaio ci si mette a tavola. Devo dire che non mi sorprende che Forza Italia sia contrario allo stop della prescrizione laddove Berlusconi ne ha usufruito abbondantemente, come nella compravendita dei senatori, il caso De Gregorio, 3 milioni di euro per far cadere il governo Prodi passando da quell'altra parte, ma che anche Forza Italia è abituata alle leggi ad personam, se dal 94 da quando Berlusconi è entrato in campo 40 leggi ad personam. Facciamo un passo avanti, se non contiamo la contrapposizione su cosa è successo. E' una contrapposizione sostanziale, che sia smentita da sola, perché giustamente dice che la prescrizione ha senso se accorcia la durata dei processi, la prescrizione come adesso dice che nel primo grado i processi durano a vita, quindi esattamente il contrario, quindi invece di nascondere qui dietro lì, diciamo, mettiamola così, dica la verità ai cittadini italiani, posso, mettiamola così, siccome, scusate, Ravetto e Ciarambino vi chiedo una moratoria, siccome dopo la Befana ci sarà questo tavolo, vediamo cosa sarà fattorito in questo tavolo, De Nicola, fatemi andare a De Nicola, posso, De Nicola, fatemi sentire il presidente di Adam Smith Society, allora, la giustizia è un tema non soltanto, come ci rendiamo conto, esplosivo, ma di grandissimo interesse per chi fa impresa in questo paese, no? Ecco, io vorrei sentire il suo punto di vista, sia su, diciamo, la congiuntura legata, insomma, alle cose di cui stavamo discutendo, sia più in generale, perché anche gli investimenti in questo paese vengono spesso scoraggiati da una giustizia lentissima, no? Allora, ci sono due aspetti diversi, uno riguarda ovviamente la giustizia civile e amministrativa e uno riguarda la giustizia penale. Per quello che riguarda la giustizia penale, naturalmente anch'io sono d'accordo sul fatto che l'abolizione della prescrizione è una, diciamo, una cosa molto, molto negativa, soprattutto perché bisogna anche avere contezza di che cosa si sta parlando. in appello, già oggi c'è il cosiddetto filtro, quindi gli appelli dilatori non ci sono, nel senso che prima di essere ammessa l'appello penale c'è un filtro della Corte stessa che oggi fa sì che il 60% delle proposte d'appello... signora, lei non sa niente di giustizia, signora, lei non sa niente, lei non ha studiato, non sa niente, ma come si permette, ma come si permette, ma citi quelli che sono i dati reali, ma non saprà nulla lei, ma non saprà nulla lei, un processo su quattro in appello... se posso dare questi dati, allora il 60%, anzi il 61% non è ammesso dal filtro dell'appello, di quelli che sono ammessi, il 60% vede la propria sentenza riformata, ora siccome nel 97% dei casi chi si appella è ovviamente la parte privata, mentre i PM si appellano solo nel 3,4-3,5% dei casi, vuol dire che la parte privata, l'imputato, in quel caso il condannato in primo grado, che si appella in più del 60% dei casi vedrà la propria sentenza riformata, che vuol dire, prima di tutto, che come è ovvio i giudici non sono infallibili, ma lo sanno anche i giudici stessi, soprattutto i giudici di appello lo sanno, visto che riformano le sentenze di primo grado. In secondo luogo che l'effetto dilatorio colpisce soprattutto non lo Stato, i PM o chi per loro, ma colpisce i convenuti, senza voler parlare del fatto che la dilazione, data dall'abolizione della prescrizione, colpisce persino coloro i quali sono stati assolti. Perciò se qualcuno è stato assolto e c'è l'appello del PM, siccome è come ovvio lo stare in processo ha un costo sociale, perché è un costo per lo Stato, un costo sociale perché molte persone che, e qui torniamo all'economia, molte persone che poi saranno ritenute innocenti sono invece appese, perché come voi sapete l'essere sottoposto a un processo e aver avuto una condanna in primo grado comporta il fatto che non si possono assumere tutta una serie di cariche all'interno dell'economia e quindi questi rimangono appesi e in più ha un costo personale, nel senso che lo stare in processo, come diceva Calamandrei, è di per sé una pena. E quindi se c'è una ghigliottina imposta per legge e non semplicemente un'efficienza degli uffici giudiziari, si rischia di arrivare a delle sentenze affrettate, quindi comunque la sigili. E quindi la soluzione qual è? La prescrizione non la vuole? No, la prescrizione io la voglio, c'è il problema che alcuni reati si prescrivono troppo velocemente grazie alla legge Cirielli, che la legge Cirielli sì che è stata una legge sbagliata, beh, si intervenga su quelli. È una legge ad persona ma non sbagliata. Vabbè, ho capito, siamo d'accordo, è una legge sbagliata, la legge a persona io dico che è sbagliata. La legge Cirielli è stata una legge sbagliata perché per alcuni reati ha ridotto troppo la prescrizione, si intervenga su quelli, ma i reati gravi, ad esempio la violenza carnale che è stata citata prima, già adesso hanno una prescrizione di 15 anni, quindi non non è, non sono tempi che sono compatibili con il giusto processo. Ma il caso della strage di Viareggio, no? Dove ci sono decine di morti per un treno che trasportava gas propano lì, è esploso, è andata in prescrizione oppure no per alcuni reati? Glielo andate a dire voi ai familiari delle vittime, scusate la giustizia ha una scadenza, nessuno paga per la morte dei vostri gari, ma stiamo scherzando? Scusi, naturalmente facendo gli esempi, gli esempi tragici, ma questo non significa solamente niente perché la strage di Viareggio per i reati più gravi non è in prescrizione infatti, certo è così, non è in prescrizione, però scusatemi, giustizia civile, poi finisco, il problema dell'Italia della lentezza della giustizia e dell'incertezza dell'esecuzione dei contratti, scusate sulla giustizia civile magari forse siamo tutti d'accordo, comunque sulla giustizia civile il problema della lunghezza dei processi e dell'incertezza sull'esecuzione dei contratti, il che vuol dire che se uno ha un contratto non riesce a farlo rispettare perché la giustizia è o incerta o troppo lunga, fa sì che nelle stime degli investitori che poi devono decidere quando c'è grandi investitori che fanno investimenti in modo sistematico contano anche queste classifiche che esistono internazionali, e questa è una cosa che sicuramente impedisce gli investimenti in Italia, ma non sono degli stranieri, anche degli italiani. A questo punto voglio dire una cosa, credo che tutti abbiate con libertà e tranquillamente espresso le vostre idee su questa situazione, se no non facciamo nessun passo avanti, siccome abbiamo altre cose secondo me che meritano un approfondimento, io quello che voglio dire molto sommessamente è che prima Ciorambino sottolineava il fatto che ci si sta muovendo e ancora molto poco a proposito di organici, di magistrati e di tutto il personale. Mai fatte tante assunzioni al contatto giustiziale? Aspetti, credo che ce ne vorranno moltissime, conoscendo ognuno di noi la giustizia penale, civile e amministrativa, e poi forse la domanda è ma chi valuta la produttività dei magistrati? Non lo so, io la metto lì perché questo è un altro punto secondo me dirimente e vi taccio in modo che apriamo un altro capitolo. Nella riforma del processo penale del Ministro Bonafede viene affrontato anche questo tema, ci sono delle sanzioni per i magistrati che non rispettano i tempi che ci si dà. Io negli anni poi non ho visto neanche tutti questi magistrati sotto accusa, diciamo, o sanzionati, però questo è un altro discorso, alla luce ovviamente di tanti magistrati che fanno egregiamente il proprio lavoro. Allora, vado da Gianluca Borrelli, torniamo al caso Salvini, vi facciamo vedere il cartello numero uno, il Movimento 5 Stelle voterà sia l'autorizzazione a procedere contro Salvini per il caso Gregoretti. Secondo lei perché? Sei stato malizioso nel trovare le risposte? Vediamo, leggiamole. Sì, allora, diciamo, la risposta più gettonata, con il 68%, è quella che dice che appunto si tratta di opportunismo politico. Per quanto riguarda Di Maio? Certo. Cioè era d'accordo con Salvini, ma ora agisce per pure opportunismo politico. Esatto, esatto. Invece, qua comunque stiamo parlando certamente della risposta di Di Maio, invece si dice appunto che soltanto un 20% circa dice che la situazione era diversa. Cioè nel caso di Ciotti, quella precedente. Esatto, non era del tutto d'accordo, quindi non era a conoscenza, eccetera. Invece solo l'8,2% dice che ha cambiato idea rispetto ad allora. Quindi meno del 30% di fatto in qualche modo giustifica in maniera genuina. Ma scusami, ma il 68% degli interpellati di chi ha risposto a questo sondaggio sono tutti, nessuno di questi è dei 5 Stelle. Allora, 5 Stelle no, non ce ne sono qui. I 5 Stelle tendono comunque ad avere un grosso consenso verso Di Maio e diciamo che qua si tratta del centro-destra e di molto PD. Oh, no, tanto per essere chiaro. Allora, Mario Lavia, non bisogno di Mario Lavia. È così che deve essere. Allora, io ho detto una cosa all'inizio che chiunque abbia sotto mano il calendario può immaginare. Se il 20 la Giunta desse l'autorizzazione, poi ovviamente se ne deve occupare l'aula, qualche giorno, certo, decide l'aula, qualche giorno dopo, in piena, più o meno, campagna elettorale. Sì, alla fine della campagna elettorale. O alla fine della campagna elettorale, no, per le regionali. Può essere un formidabile assist per Salvini o no? Beh, io temo che, anzi, sono praticamente sicuro che Salvini utilizzerà questa circostanza per fare una propria campagna elettorale, gridando come già grida, no, all'assalto, alla persecuzione contro di lui. Questo è certamente un rischio, però, insomma, la cosa secondo me andrebbe riportata alle sue dimensioni. Cioè, qui non si tratta di votare per la colpevolezza o per l'innocenza di Salvini. Questo è importante che gli italiani lo capiscano. Cioè, il Parlamento deve votare sul fatto se esista una persecuzione da parte della magistratura nei confronti di Salvini, o no? No. Non è proprio così, dice Laura. No, 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 scusami, Laura. Vabbè, non è questo su cui verrà interrogata la Giunta e il Parlamento. Beh, la Giunta deve decidere se esiste questo famoso Fumus persecuzione. Sì, però il tema del Tribunale non è questo. Cioè, il Tribunale ha un problema di Chiedere, quindi noi dobbiamo rapportare il Fumus rispetto all'oggetto che deve andare in giudizio, che adesso espliciterai, perché se no sembra, voglio dire... No, io dico che... Ricordiamolo che è sequestro di persone. Ma non solo, posso esprimere la parte giuridica, poi così mi fai il commento politico. Cioè, qua cosa succede? Ma perché sono un cavaliere, perché se no non dovrei darci la parola. No, non la fai, fai. No, è perché qua è importante, perché ha ragione di lui, va spiegato. Qua si va al Tribunale dei Ministri, che deve valutare, non se si è configurato o meno un'ipotesi di reato, ma se nella configurazione dell'ipotesi di reato c'è o meno la giustificazione dell'interesse pubblico prevalente. Per questo si va al Tribunale dei Reati dei Ministri. Ma io non stavo parlando di questo. No, però scusami, tant'è che la Procura chiede l'archiviazione, perché valuta che c'è l'interesse. E qua invece i giudici decidono, no, andiamo al Tribunale. Quindi la Giunta, tu hai ragionissimo, deve sì valutare il FUMUS, la persecuzione, però relativamente a questo oggetto, non al reato in sé, questo è una persecuzione. Ha fatto meglio a sottolinearlo, però adesso quello che non interessa è il senso politico di tutto questo. Certo, ma io sono d'accordo. Senza voler sottovalutare quello che diceva il governo. Cioè noi dobbiamo dire, c'è o no l'interesse nazionale e quindi il giudice deve veramente esprimersi o c'è? Esattamente, la mia diceva. Ma io sono d'accordo, cioè il Parlamento non si esprimerà sul merito della vicenda, se Salvini ha commesso un reato oppure no. Domanda che ti risponderà il Parlamento, domanda secca, che sembra banale la mia domanda. Se il momento 5 Stelle e Lega fossero stati ancora alleati, il momento 5 Stelle avrebbe votato? Ci stavo arrivando. Come? Naturalmente, questo sarebbe quindi un voto di natura tecnica, questo che deve esprimere il Parlamento. Cioè se Salvini deve andare a processo oppure no. Naturalmente in questo Paese tutto diventa una questione politica. E allora come fu espresso un voto politico in occasione della vicenda di Ciotti, quando Caldo Di Maio salvò Salvini, perché erano alleati, perché erano tutti alleati nel governo, adesso il Movimento 5 Stelle di fronte è una medesima situazione, che è molto simile, perché la questione è molto simile. Ci sono differenze sostanziali. E' uguale, assolutamente no. Adesso poi sentiremo le differenze sostanziali. Esattamente, ve le dio. No, la differenza non c'è, la differenza non c'è. Non c'è nessuna differenza politica. No, per me devi far finire. No, però finisci no, perché sono fuori con l'accuso. Dimmi, dimmi. Ho capito, ho parlato tanto, tutti parlano, io non riesco a dire una cosa. Ma, a farmi finire, è evidente che trattandosi, purtroppo se ne fa una questione politica, Di Maio utilizza questa questione per regolare un suo conto con Salvini, questo lo capiscono tutti, perché la situazione è identica. Quindi sono più coerenti, da una parte, i leghisti che dicono che Salvini comunque non va mai processato, oppure quelli che lo hanno già, come il PD detto a suo tempo, che andava processato per la 18. E che mi pare che anche in questo caso, dalle prime cose che sentiamo, si esprimeranno a favore dell'autorizzazione a procedere. Allora, prima di coinvolgere Rinaldi e Scaravino, c'era il professor Tremonti che stava facendo riferimento al 2011, l'anno orribile o no? O anche, sentendo, la storia delle clausole di Saraguardia è un po' questa. Nel 2011, maggio 2011, il governatore Draghi, Banca d'Italia, scrive nelle considerazioni che la gestione del pubblico bilancio italiano è stata prudente. Le correzioni necessarie in Italia sono inferiori a quelle necessarie negli altri paesi europei. E lo stesso è in Europa. Il 5 di agosto arriva una lettera che dice l'opposto. Viene, diciamo, dall'Europa, per carità di patria. E da lì inizia un periodo piuttosto complicato per il nostro paese. Poi dirò una cosa inglese. In quel momento viene fatto un decreto imposto dall'Europa, nel quale decreto c'è delle correzioni, più o meno quelle chieste dalla Banca d'Italia, in un caso di omonimia, e dalla BCE. Non basta. L'Europa dice non ci fidiamo, non è così, devi fare una garanzia. E lì venne fuori una clausola che non era di legge. Era un modo di dire se non fa così faremo tagli, faremo di qua, faremo di là. Le vere clausole le introduce Monti con la parola IVA e con le scadenze e con gli importi. E da allora è continuato nei vari governi successivi a quello di Monti. Quindi nel governo Letta, nel governo Renzi, poi Gentiloni, poi Gentiloni e un po' adesso. Quindi è una menata che sta in piedi da tanto tempo. Perché tra l'altro l'Europa vuole le clausole IVA? Vuole l'aumento perché un pezzo di quell'aumento lo prende lei. Quindi c'è in un qualche modo un interesse. Tornando al 2011, io sono stato in Inghilterra, ho visto delle persone. E una cosa che mi ha molto colpito, in un ambiente estremamente importante e non di parte. Anzi, uno statista laborista disse, ha detto in pubblico, abbiamo fatto male ad abbandonare l'Italia nel 2011. Quando Sarkozy e Merkel sbeffeggiavano, poi per carità, nessuno è perfetto però. E disse, è vero che era un governo protopopulista, ma noi abbiamo abbandonato l'Italia cedendola alla Germania. La logica, la storia del rapporto dell'Inghilterra con l'Europa è sempre stato quello di un'alleanza e di un asse con l'Italia verso gli imperi centrali una volta. E questo è sempre stato il bene del nostro paese. L'unità d'Italia è fatta da Cavour, da Garibaldi, ma anche dagli inglesi. Ora, avere abbandonato l'Italia a una decadenza progressiva, perché la presenza politica dell'Italia in questo momento in Europa è francamente... Marginale? E dire essere buoni, gentili... C'è un eufemismo usato secondo lei, insomma. Sostanzialmente non c'è, ma non c'è in Europa, non c'è in Libia, non c'è da nessuna parte. E con la Brexit perderemo definitivamente una sponda, diciamo. Che aveva già fatto quell'errore una volta. Per inciso, la Brexit per l'Europa è una tragedia, perché perdiamo i mari. Tutti a dire cosa succede agli inglesi. Io farei l'altra domanda. Diciamo cosa succederà all'Europa, al continente. Il continente senza i mari, in una competizione globale tra America e Cina, è destinato a sprofondare. Puoi dire stiamo sempre al tavolo, ti dico nel Bruxelles. Al tavolo ci puoi stare in due modi, come commensale o come pietanza scritta sul menu. Allora, parole che sono musiche, immagino, questi ultimi Tremonti per Rinaldi, o no? Bene, innanzitutto condivido le lucidi analisi del professor Tremonti. Anzi, sono anche un po' arrabbiato con lui, perché mi ha tolto molti spunti che avrei detto io. Quindi ha perfettamente ragione. Anzi, oserei dire anche altre cose. Ad esempio, Zingaretti cosa ha detto? Dice Salve Italia. Si è scordato che non è che porti molto bene, visto che Monti, per l'appunto, ha chiamato Salve Italia, quello che poi effettivamente è stato un distruggi Italia. Però vorrei fare una considerazione. Il scorso governo, il presidente governo, quando ha fatto una manovra col 2,4 è successo il pandemonio e addirittura fu portata al 2,04. Vi ricordate? C'erano i giornali, un altro po' in edizione straordinaria. Io ho trovato enorme difficoltà questa volta a trovare invece questo dato per questa manovra. Poi ci sono riuscito e lo sapete quant'è il deficit programmato per questa manovra? Del 2,5%. Eppure nessuno si straccia le vesti, si strappa i capelli e tutto quanto. Allora io vorrei aggiungere una cosa a quello che ha detto il professor Tremonti. Benissimo, c'è stata la manovra che prevede di disinnescare e ha spiegato molto bene l'origine perché ha perfettamente ragione quando ha spiegato la genesi di questo provvedimento. Il primo gennaio cosa succede? Riparte il contatore. Allora guardate, visto il Consigliato che fare un deficit del 2,5 significa di fatto fare un deficit aggiuntivo rispetto all'altro anno di 8 miliardi e passa perché sono un po' meno di 5 punti e 0,5 di percentuale, quindi su un PIL di 1.700 sono 8 miliardi e qualche cosa. Vorrei fare una domanda. Le prossime clausole di salvaguardia, cioè il prossimo governo, questo, un altro, non lo so, si ritroverà a disinnescare delle clausole di salvaguardia. Su che importo? Non su 23, ma su molto di più. Questo non lo dice nessuno. Ecco, questo vorrei che venga fatta anche in studio una riflessione su questa cosa. E adesso lo chiediamo al sottosegretario Guerra, certo è una bella domanda questa che pone Rinaldi perché è come se ricominciassimo sempre da capo, però aspetti adesso la faccio rispondere, sentiamo intanto dalla parte degli agricoltori come si giudica l'impianto complessivo della manovra. Io credo che il tema che ormai avanza a livello europeo di un nuovo approccio eco-ambientale costringa anche un po' la politica a parlare di agricoltura. E questo è un po' forse l'unico elemento di vantaggio che noi abbiamo avuto. Intanto abbiamo iniziato anche in Italia a considerare l'agricoltura una componente del sistema agroindustriale. Prima si parlava del sistema agroindustriale e poi dell'agricoltura, come se fosse una variabile indipendente dal successo del sistema agroindustriale. Oggi con qualche misura che più che stanziamenti vede comportamenti, secondo noi positivi con il nostro lavoro molto serrato, ad esempio l'agricoltura entra a far parte del club della transizione 4.0. Cioè può avere un credito d'imposta che vista la fiscalità di vantaggio dell'agricoltura prima non poteva essere utilizzato. Oggi si sconta sui contributi previdenziali dell'agricoltura e dei lavoratori. Ma le posso chiedere una cosa, no? Plastic tax, sugar tax, per voi sono misure che possono anche in qualche modo, magari in seconda battuta, aiutare a comportamenti più consapevoli o servono solo per far cassa? Ma allora, noi ci siamo schierati contro queste due imposizioni, per un motivo molto semplice. Perché intanto toglie competitività al sistema agroalimentare. La plastic tax vuol dire che se le buste di insalata italiane costano un po' di più perché pagano le tasse, le multinazionali della grande distribuzione le comprono in Francia o in Germania, ad esempio. E sulla sugar tax è sostanzialmente l'apertura all'Unione Europea a porre l'etichetta con il Nutri-Score. Quella cosa che noi non vogliamo. Se noi tassiamo lo zucchero, automaticamente andiamo a dire all'Unione Europea che ha ragione, a dire che il parmigiano è meglio bere Coca-Cola che mangiare parmigiano. E questo ovviamente è una battaglia di sistema per difendere l'agroalimentare italiano. Per cui più che il problema fiscale è un problema di strategia politica verso l'Unione Europea che vuole affermare appunto che la dieta mediterranea è dannosa per la salute. E noi dobbiamo difendere. Ancora mutuo le parole anche di Rinaldi. Insomma c'è sempre sullo sfondo un po' la gabbia europea. Adesso devo tornare dalla sottosegna guerra, però vedo con Francesco Bardaro il segretario della CGL Landini che saluto. Ormai un appuntamento fisso Landini. Ogni settimana circa ci sentiamo da Piazza Santi Apostoli o no? Oggi si concludono le manifestazioni che avevamo deciso, le manifestazioni assemblee per dare voce a tutta la nostra gente. È chiaro che quello che noi pensiamo è che in questa legge di stabilità alcune cose sono state fatte, altre non abbiamo avuto risposte. E per quello che ci riguarda a questo punto è necessario che i tavoli di trattativa su una vera riforma delle pensioni, su una vera riforma fiscale e su una riforma della pubblica amministrazione che apra anche la stagione del rinnovo dei contratti e anche degli investimenti non diventano più solo appuntamenti generici ma per noi gennaio deve significare l'apertura di una trattativa vera e di risultati che devono essere portati a casa prima di aprile quando il governo ha detto che vuole discutere il nuovo documento di programmazione economica perché questo è il momento di aprire davvero una fase di riforme nel nostro paese e se non ci sono noi siamo pronti a fare la nostra parte, la nostra battaglia anche nel paese se necessario. Sì, allora guardo Cecilia Guerra, governo avvisato mezzo salvato mi verrebbe da dire. Mi sembra che il governo si stia muovendo esattamente in questa direzione perché ha rilanciato con forza il confronto con le parti sociali e sicuramente i temi che sono stati elencati sono temi che faranno parte dell'azione di governo. Per quanto riguarda il fisco abbiamo già annunciato la costituzione di un tavolo di confronto ampio per intervenire soprattutto sull'imposizione diretta e sull'IVA in un'ottica di riequilibrio del prelievo oltre che di diminuzione su chi sostanzialmente ne sopporta l'onero maggiore. Per quanto riguarda le pensioni abbiamo ereditato una mini riforma temporanea, la quota 100 che poi lascia uno scalone enorme cioè il fatto che uno che è nato a gennaio invece che il 31 dicembre si trova ad andare in pensione 5 anni dopo. Sono curioso che mentre lei parla di quota 100 io vedo che da Strasburgo insieme a Rinaldi adesso è scomparso, c'era l'ex sottosegretario Durigon che è uno degli artefici di quota 100 che è venuto a trovarci. Voglio sentire da Landini se insomma è in qualche modo confortato da questa risposta perché non dobbiamo dimenticarci che all'orizzonte ci sono anche molte fibrillazioni nel governo e si continua a parlare di verifica di gennaio. Non è una verifica, mi scusi, non è una verifica. perché la verifica fa pensare a un governo traballante. Qui abbiamo invece un governo che ovviamente è composto da soggetti diversi e che fatta la manovra di bilancio che era l'emergenza a cui siamo arrivati ci siamo costituiti a settembre adesso vuole programmare, cioè non essere condannato a interventi e spot ma fare delle vere e proprie riforme e quindi ha bisogno di programmare insieme un percorso per poter dare un contributo al paese, non per stare in piedi traballando. Questa non è un'immagine in cui mi ritrovo. Torno un attimo da Landini e poi vado da Tremonti. Landini ha sentito la sottosegretaria Guerra? Sì, sì, l'ho sentita. Io dico che per noi gennaio a questo punto è il mese che deve dare il senso di un cambiamento vero. Noi abbiamo bisogno, io riconosco ed è vero che questo governo si è incontrato con le parti sociali a discorso della legge di stabilità. Ci sono alcuni primi risultati anche se alcune cose nostre richieste non ci sono e dentro a questa legge di stabilità non abbiamo trovato risposte. Ma a gennaio per noi deve partire davvero una trattativa e sui punti che ho detto prima dalla riforma delle pensioni alla legge sulla non autosufficienza a una vera riforma fiscale che vuol dire rivedere l'IRP e fragionare sulle detrazioni ma anche fare una battaglia contro l'evasione fiscale ancora più forte di quella che è stata fatta e il rilancio degli investimenti e il rinnovo dei contratti per noi ci debbano essere dei risultati. Quindi la nostra spinta è che il governo faccia ancora di più di quello che ha fatto fino ad ora e che si vada in una direzione di risultati concreti che cominciano a invertire la tendenza. Questa è la battaglia che facciamo avendo delle proposte perché il Paese ne ha bisogno e c'è soprattutto bisogno di dare un messaggio a chi sta peggio, a chi il lavoro non ce l'ha, a chi è precario, che di nuovo la politica e le organizzazioni si interessano della loro condizione e vogliono combattere le ingiustizie che in questi anni si sono determinate. Sì, ma se trovo ti vuole chiedere qualcosa a Landini se no ho una domanda per lei. Quel che vuole. Allora io le voglio chiedere questo. Landini faceva una sorta di anche lui tracciato delle cose da chiedere riforma delle pensioni, una legge sulla non autosufficienza, la riforma fiscale, peraltro già annunciata più volte dal Premier Conte, una lotta più forte all'evasione fiscale. In tutte queste voci manca sempre, non lo so, sarò io forse un po' appannato, ma i giovani, ma i provvedimenti per i ragazzi che devono entrare nel mondo del lavoro, per i tanti ragazzi italiani che vanno all'estero, sono spariti dai radar? Ma se posso fare un rilievo non di parte, quando uno parla di riforme, di riforma fiscale, di grandi riforme dello Stato sociale, deve avere una maggioranza solida, non può essere di piccola parte dato un grande problema. Ora, se per l'anno prossimo ci dicono come eliminano, evitano l'aumento dell'IVA, che se no è per legge dal primo gennaio, se ci dicono facciamo un po' di manutenzione, supponiamo, facciamo un caso, 3 miliardi di sgavio sul lavoro dipendente, ai miei tempi ce n'erano molti di più e nessuno lo configurava come una conquista sociale, erano cifre comunque modeste. 3 miliardi sono una cifra minima, magari importante per uno che c'è poco, ma se mi vengono a dire che la riforma è presa a 3 miliardi, ora, io credo che se questo governo dura, credo ha il dovere, il potere di fare la manutenzione, ma sentirmi dire da un governo che è minoritario nel Paese, che farà la riforma sociale, la riforma fiscale, francamente mi sembra non responsabile. Noi siamo abituati a fare i conti con i governi che ci sono e io penso che sia venuto il momento di produrre dei cambiamenti. Io non ho nessun problema a dire che 3 miliardi per me di sgravi al cuneo fiscale fino a 35 mila euro sono non la soluzione del problema, ma l'abbio del problema. Infatti noi ne vogliamo il doppio l'anno dopo e vogliamo che gli introiti dell'evasione fiscale aumentino ulteriormente la detassazione per i pensionati e per i lavoratori. Ma queste sono cose che noi vogliamo portare a casa e quando lei dice per i giovani guardi che aumentare le entrate fiscali è la condizione per poter fare gli investimenti e creare il lavoro per i giovani. Poi siccome il prossimo anno sono i 50 anni dello statuto dei lavoratori, noi lo stiamo dicendo da un po', per noi il prossimo anno bisogna portare a casa il nuovo statuto dei diritti di tutti i lavoratori che vuol dire che tutte le persone per qualsiasi rapporto di lavoro anno, anche partite IVA, devono avere gli stessi diritti e le stesse tutele. Quindi questa è un'altra sfida che noi lanciamo al mondo politico e in questo caso anche al sistema delle imprese. Senta Landini, la salutiamo, c'è una pubblicità, le chiedo solo una battuta. Lei recentemente è intervenuto e come anche su quella notizia dal suo punto di vista, ovviamente da molti punti di vista drammatica, piano industriale Unicredit, 6.000 esuberi solo in Italia annunciati. Adesso è scoppiata la questione della popolare di Bari. È preoccupato? Perché il governo insomma un decreto l'ha varato, ma è preoccupato? Beh, la questione di Bari è più simile alla carige di Genova e quindi credo che quando c'è da difendere il risparmio e il territorio è giusto intervenire e allo stesso tempo è giusto vedere dove sono le responsabilità e colpire chi ha gestito male la situazione. Per quello che riguarda Unicredit rimango della stessa opinione. Io trovo che sia inaccettabile che per aumentare i dividendi di un'impresa che è inutile si pensi di tagliare e di cancellare l'occupazione. Questa è una logica barbarica che noi non accettiamo e che mettiamo in discussione. Dove ci sono utili vanno reinvestiti possibilmente per qualificare ancora di più il lavoro. le banche tedesche sono in difficoltà anche ma le banche italiane non sembrano stare meglio in questa fase come vede lei dal suo osservatorio della BEI questa fase? Intanto sono due tipi di difficoltà molto differenti in un caso c'è incertezza su quelli che sono gli asset che hanno in bilancio le banche quindi che tipo di operazioni hanno fatto nel caso italiano quello che possiamo ridurre secondo me è che le banche che hanno sofferto di più erano quelle che non avevano una governance state of art quindi che avevano problemi di governance però sono due situazioni direi distinte nel nostro caso abbiamo avuto problemi di governance e delle operazioni di prestito fatte magari nel modo sbagliato nelle altre ci possono essere asset difficili ci possono essere asset difficili da valutare che cosa ne pensa dell'idea di una banca per il sud o comunque di una struttura finanziaria ad hoc ma guardi una banca per il sud nel sud c'è sicuramente un problema del credito non credo che sia il problema più rilevante nel sud c'è una carenza di progettualità più che di credito come mai in italia si è finiti per parlare così tanto del mess ma come italia piuttosto che preoccuparmi delle potenziali conseguenze di un utilizzo del mess mi preoccuperei di non mettermi nelle condizioni di utilizzare il mess quindi dare solidità e sostenibilità alla finanza pubblica la banca europea degli investimenti in prima linea nel new green deal pagheranno le spese di tutto ciò le classi sociali più deboli? no non necessariamente anzi direi assolutamente di no è un'esigenza vedi questa banca è nata guardando a lungo periodo a decennari a 40-50 anni da oggi questa è la decada decisiva non abbiamo più tempo da perdere peraltro le tecnologie stanno avanzando rapidamente i costi si abbassano per cui il fatto che i costi siano diventati minori rendono anche l'utilizzo a pannelli solari più accessibili a qualsiasi categoria sociale Trump Brexit voto in Gran Bretagna che Europa sta ridisegnandosi viene a domandarsi che mondo sta venendo fuori è un mondo in cui la divisione che abbiamo immaginato tra tanti anni tra Est Occidente tra Oriente si mette in discussione stanno cambiando veramente gli assetti questo è un rischio per l'Europa ma è anche una grande opportunità in questo momento mi viene da ricordare quello che disse Ciampi a chi mostrava scetticismo verso l'Europa diceva ci sono 50 buoni motivi per essere a favore dell'Europa che sono i 50 milioni di morti della seconda guerra mondiale l'Europa ha portato pace stabilità e prosperità e questo lo dobbiamo ricordare sempre Allora così parlò il vicepresidente della Banca Europea degli investimenti Scannapieco insomma come avete visto abbiamo spaziato attraverso vari argomenti alcuni di strettissima attualità altri diciamo che vengono da più lontano allora diceva Friedman Dejana no? Parliamo delle cose serie altro che referendum sul taglio dei parlamentari altro che Salvini nel mirino per la sua politica sui migranti qui c'è l'economia di cui dobbiamo tutti preoccuparci l'economia italiana è in una situazione molto complessa anche perché chiaramente noi viviamo in un mondo interdipendente quindi la complessità non è soltanto locale è globale complessiva anche se gli indici di borsa e certi indicatori come per esempio quelli americani sembra che vadano benissimo ma diciamo così l'orso è sempre dietro l'angolo cioè una possibile crisi in questo mondo instabile è sempre da attendersi è per questo che BCE e Fed stanno rifacendo il quantitative easing le banche italiane poi hanno un problema strutturale tassi bassi quindi scarsa redditività un tempo Marx cioè per tradurre cioè le banche guadagnano poco rispetto a quando la guadagnavano prima Marx scrisse che quando i tassi sarebbero andati a zero il capitalismo sarebbe morto il capitalismo non è morto i tassi sono sotto zero però il sistema si sta trasformando quindi quel modo di fare banca non fa più reddito e soprattutto espone a una serie di rischi perché perché le banche italiane nell'era dei tassi bassi hanno prestato tanti soldi mettendo a garanzia che cosa gli immobili gli immobili con la crisi del 2008-2010 sono crollati di quotazione e diciamo che in Italia rispetto ad altri paesi non ci sono mai ripresi perché in altri paesi no il mercato immobiliare piano piano è ripreso perché perché chiaramente avevano una struttura bancaria diversa e le banche per liberarsi delle sofferenze hanno inondato il sistema immobiliare di immobili invenduti in asta 100 prezzo 50 valore reale venduto in asta a 30 è chiaro che in quel modo non si risollevano i prezzi degli immobili e le banche vanno in sofferenza e poi vanno in crisi perché gli si accumulano ulteriori sofferenze a fronte di questo suo ragionamento che mi sembra anche molto chiaro c'è un altro aspetto cioè che gli italiani nonostante quello che si scrive si dice si racconta continuano a risparmiare e c'è una massa di risparmio che non si investe cioè che famiglie e imprese poi non investono o no? è assolutamente così questi dieci anni di crisi hanno sostanzialmente stressato ulteriormente perché non si fidano nemmeno perfetto perché se come vediamo tutti tradiscono tutti che futuro può avere qualcuno che vuole investire che vuole consumare che si vuole fare una famiglia che si vuole fare un'impresa ma il problema fondamentale per gli italiani è che avevano già una fortissima propensione a risparmio questa propensione a risparmio questi dieci anni di crisi quest'ansia da futuro l'ha stressata tantissimo per cui noi adesso facciamo tutto patrimonio noi abbiamo 6.400 miliardi di euro di immobili e 4.300 miliardi 10.000 miliardi la Banca Italia siamo uno dei tre paesi più ricchi del mondo però facciamo tanto patrimonio e non facciamo più reddito stagniamo perché abbiamo paura del futuro e questo vado da con la rinno e questo voglio dire il fatto abbiamo paura del futuro è dirimente anche dal punto di vista di chi le politiche economiche deve farle adesso nel caso vostro siete un socio di maggioranza e quindi di quello bisogna parlare questo è uno dei grandi problemi adesso arriva a conclusione diciamo la tappa finale la manovra lo dicevamo prima una manovra da molte parti criticata adesso al di là del lavoro dell'opposizione criticata è una manovra difensiva non c'è un disegno per l'Italia si mettono toppe qui e lì ci saranno molte microtasse o tasse che scopriremo poi dall'inizio dell'anno insomma non c'è l'idea di che cosa vuole essere questo paese cioè si gioca sempre sulla difensiva ma mi lasci dire una cosa visto che tra l'altro c'è anche Alan Friedman sì chiaro che noi dobbiamo contestualizzare adesso e la politica economica interviene e agisce con la sua leva ma è chiaro anche che noi veniamo da un trascorso cioè quello che è accaduto tra il 2008 ad oggi ha delle conseguenze tuttora presenti nel sistema il sistema industriale a livello globale sta spingendo ancora di più le imprese verso una proiezione dei mercati globali verso la necessità di investimenti spaventosi positiva per esempio l'aggregazione tra FCA e Peugeot quindi Fiat Chrysler e Peugeot perché tu hai bisogno di ordini di grandezza di economia di scala di investimenti pensiamo solo a cosa significa il passaggio da motore termico alla frontiera dell'elettrico poi lì dobbiamo aprire una parentesi quindi è chiaro che la politica economica ha una leva fondamentale questa manovra dal nostro punto di vista va vista col bicchiere mezzo pieno cioè noi abbiamo evitato in una fase di stagnazione l'aumento dell'iva per 23 miliardi sono stati dati risorse importanti e aggiuntive per le famiglie italiane lo ha fatto il ministro Bonetti di Italia Viva è stato aperto una questione di 3 miliardi per noi sono insufficienti sul cuneo fiscale se confrontati con i 10 miliardi che aveva fatto Renzi con i cosiddetti 80 euro però diciamo con questo tipo di politica economica che è stata che è intervenuta a valle di misure secondo noi folli che hanno assorbito cassa e risorse e lì sta pensando a quota 100 e a rendito di cittadinanza però da qui per muoverti dagli 0 virgole arrivare a una crescita a un ritmo del 2% la nostra ricetta di Italia Viva di Matteo Renzi è di mettere in campo un piano di infrastrutture noi l'abbiamo quotato intorno ai 120 miliardi di euro su strade aeroporti autostrade territorio abbiamo visto cosa significa in Italia il dissesto allora di questi 120 miliardi che ripeto coinvolgono risorse pubbliche ma anche private perché le infrastrutture hanno degli yield hanno dei ritorni che coinvolgono anche risorse finanziarie private di fondi di private equity di banche eccetera di questi 120 miliardi 76 sono già disponibili perché sono bloccate per burocrazia solo 8 sono da finanziare però aspetti aspetti è una leva un moltiplicatore importante che noi faremo subito voi giustamente premete l'acceleratore in questa direzione bisogna premere l'acceleratore non c'è nel senso è tutto di là da venire intanto quello che è stato fatto e acquisito è è sceso lo spread di oltre 100 punti tra il precedente governo e questo perché comunque i mercati apprezzano una politica diversa rispetto a quella precedente più rischiosa meno europeista fuori dalle regole dei mercati senza Salvini l'Europa ci vuole più bene 100 punti in meno comunque si traducono sui mercati sui risparmiatori sulle borse sui muti delle imprese secondo ripeto l'aumento dell'IVA che ha occupato uno spazio di bilancio di 23 miliardi quindi è molto e ripeto la nostra battaglia che è stata quella di fermare per il momento sugar tax plastic tax e poi faremo la battaglia sì buongiorno la carta inglese oggi ci dice molto perché se è vero che c'è già qualche perturbazione sull'Italia vicino sulla Spagna c'è una serie di perturbazioni e queste entreranno anche loro sull'Italia quindi per quello che riguarda la giornata di oggi nella prima parte abbiamo ancora dei fenomeni piuttosto intensi al centro e al sud soprattutto su zone interne e versante tirrenico Corsica e Sardegna nord-est un poco e questa situazione tende temporaneamente ad attenuarsi perché nella seconda parte della giornata di oggi troviamo fenomeni attenuati sia la parte che tocca ancora al nord la Liguria sia la Toscana Lazio soltanto sul basso tirreno fra Campania e Calabria qualche fenomeno rimane intenso però la giornata di domani vede di nuovo maltempo forte quindi c'è questa specie di piccola pausa e questa è la giornata di domenica il miglioramento c'è a parte il confine francese al nord ci sono zone in cui non piove o piove di meno però ancora vedete come si arriva sull'Alta Toscana i fenomeni sono intensi sulle zone interne del centro molto intensi fra Campania e Calabria quindi ritorno al maltempo forte in quelle zone in Sardegna parte la Corsica in Sicilia insomma il maltempo c'è nella giornata di lunedì c'è questo miglioramento questa volta diciamo reale un pochino stabile al nord su parte del centro mentre al sud soprattutto in Calabria resta ancora maltempo intenso che si attenua soltanto nella giornata di martedì vigilia di Natale in cui troviamo una situazione un pochino più tranquilla diciamo quindi le prospettive per il Natale sono abbastanza buone chiudiamo velocemente con questa foto che ci ha mandato Silvanio credo che non sia un errore che si chiami Silvanio da Varigotti fino alle Ligure siamo in provincia di Savona c'è stata questa mareggiata vedete con l'acqua che arriva quasi alle case questo aspetto setoso dell'acqua è dato dalla esposizione della foto che è un pochino più lunga però dà diciamo un effetto abbastanza lasciatemelo dire suggestivo io ho affidato la tutela del mio onore finora non ho mai voluto denunciare nessun collega ad Antonio Di Pietro e Antonio Tanza Presidente dell'Ausbeth che significa che mio figlio lavora in banca dove sta il conflitto di interesse ma che cosa vuol dire che cosa vuol dire andate a vedere i conflitti di interesse di coloro che hanno fatto i crack e non di uno che lavora onestamente mio figlio giornalista all'età di 21 anni laureato con 110 e l'olio vi dovete vergognare caro Antonio mi difende anche da questo mi difende anche da questo mi difende anche da questo allora io non mi volevo candidare perché già sapevo me lo hanno chiesto io facevo il tivo per paragone mi hanno chiesto di candidarmi con le procedure del movimento sono stato scelto io sono il candidato del movimento 5 Stelle quindi confermo non farò alcun passo di più eh caro Sottosella Barretta allora il suo partito dice non se ne parla proprio adesso come sarebbe una battuta forse non nei confronti del governo non eh un po' critica come in altre situazioni si rinvia perché la commissione doveva riunirsi credo per eleggere il presidente domani adesso salta diciamo dopo le feste mettiamola così no? eh però se rimane il vostro veto sull'annutti e se i 5 Stelle ieri si era si era aperto uno spiraglio forse un cambio in corsa poi invece anche Patonelli ha detto no per noi è il candidato migliore perché ha le competenze giuste l'annutti che succede? è un altro motivo di frizione nella maggioranza premesso che rispondo come esponente del PD e non come governo perché io penso che il governo faccia bene ad astenersi in una discussione che riguarda il Parlamento e le competenze del Parlamento eh io penso che si troverà una mediazione come in tutte le cose cioè eh l'annutti fa bene dal suo punto di vista a dire io non mi tiro indietro perché mi sono candidato ma siccome ci va un accordo tra le forze politiche penso che si troverà una mediazione ci sono sempre terzi nomi in queste situazioni si troverà quindi lei è ottimista diciamo nell'epilogo nella risoluzione sì sono ottimista nel senso che ogni giorno c'è un motivo di frizione ogni giorno ha la sua pena ma ogni giorno doverosamente si trovano le soluzioni adesso avevo un retro pensiero ma non posso me un secondo no io credo che abbia ragione Patuanelli cioè l'annutti personalmente lo conosco da tanti anni è un grande esperto di banche quando è stato a Ladis ha portato su quel versante operava ha portato in porto alcune sentenze importanti sull'usura quindi sostenere che l'annutti non conosca il mondo del credito è assolutamente non corretto ha fatto degli scivoloni ha chiesto scusa non entro nel merito però io non so oggi nel Movimento 5 Stelle chi ci sia più preparato nel settore bancario di Elio e Lannutti quindi sinceramente devono trovare un compromesso aggiungo anche un'altra cosa che questo fatto che il figlio lavori in banca a Bari ma quanta gente lavorerà la popolare di Bari andatevi a vedere i politici pugliesi i magistrati pugliesi i sindaci pugliesi eccetera e ne troverete paccate come è ovvio che sia come il banco di Napoli per Napoli non può essere diceva bene il sottosegretario Bari se tu fossi l'annutti per un fatto di opportunità politica non faresti un passo indietro ma se lui non ha nulla da nascondere perché lui si considera il più preparato se noi in questo paese però non lasciamo spazio alle competenze e facciamo ragionamenti politici e ideologici quando si tratta della vita delle persone delle imprese delle aziende è finita qua non dobbiamo entrare allora se lui ha compiuto dei reati diciamo sostenendo i protocolli di Savi la vicenda legata al suo complottismo nel mondo bancario è un conto secondo me no ma io magari sono una minoranza dopo di che se invece ha le competenze quello è un altro discorso il PD presenti un nome potabile e poi scelgano il compromesso insomma è fondamentale concludo che sia fatta questa commissione di inchiesta come diceva giustamente il sottosegretario Barretta perché il paese deve sapere come l'Italia è già stata fatta un'edizione l'abbiamo vista sì ma è finita così non mi pare che l'epilogo di quella commissione sia stata la lucidina sono fallite e non c'è il rischio che finisca anche questa sono fallite no perché a questo punto non si può più sono fallite dieci banche noi abbiamo ricordato l'altro giorno su milanofinanza.it che al sistema italiano è costato 33 miliardi questo giochino quindi gli italiani devono sapere come sono stati usati questi soldi fatto salvo che per me è giusto che lo Stato salvi le banche piccole e medie perché too big to fail va bene per le grandi ma le piccole e medie non le salva nessuno se non interviene lo Stato quindi sono piccole e falliscono non so Baretta adesso le faccio dire voglio aggiungere una cosa però voglio sapere quindi sì perché mi pare che voi siate a favore di Lannutti no? Noi siamo a favore della commissione di inchiesta mi faccio dire due cose rapidissime la prima è che la commissione di inchiesta dovrebbe servire cosa che non è servita nella precedente commissione di inchiesta perché c'erano più motivazioni politiche perché non si raggiungessero alcuni obiettivi piuttosto che una commissione di inchiesta sulle banche che lavorasse in un certo modo se questa è l'occasione noi ci siamo assolutamente tant'è che abbiamo detto alla maggioranza diteci che dobbiamo votare quando avete scelto e trovato l'accordo tra di voi e noi siamo disponibili a votarlo e a far partire la commissione detto questo i problemi sono due la premessa è che né tutte le banche sono uguali né tutti gli amministratori delle banche sono uguali e questo ce lo dobbiamo dire perché ci sono tante banche fatte di amministratori responsabili di cui non parliamo perché non creano i problemi di disastri che hanno creato come quelli della Popolare di Bari e come qualcun altro in precedenza lì ci sono due questioni la prima è la certezza della pena cioè gli amministratori che hanno rubato ai risparmiatori perché di questo stiamo parlando bisogna che abbiano la pena dovuta e scontino la pena dovuta la seconda questione che riguarda Banca d'Italia non è solo sotto l'aspetto della vigilanza ma la domanda che io mi continuo a fare siccome in ogni singola vicenda che va a finire male di un istituto di credito che abbiamo visto negli ultimi anni c'è una specie di zampino di indicazione dal punto di vista di piano industriale sulle scelte da fare di quegli istituti di credito da parte di Banca d'Italia si dice che Banca d'Italia abbia consigliato l'acquisto di questo istituto di credito questa incorporazione di fare questa fusione eccetera eccetera la domanda che bisogna farsi e la discussione che va fatta in quella commissione è anche relativamente a se queste indicazioni ci sono state e visto che queste indicazioni non hanno funzionato quale forse la motivazione per cui è arrivata quell'indicazione sì chiarissimo il suo discorso le chiedo però forse ho capito male io l'altro giorno ho sentito Salvini proprio sulla sette no? a non è l'arena non è che c'è il rischio che la politica voglia metterci una mano pesante su Banca Italia? no non c'è non c'è nessun rischio però credo che la politica abbia la responsabilità di fare una valutazione anche rispetto a vigilanza che ha funzionato o non ha funzionato richieste che ci sono state o non ci sono state credo che sia legittimo da parte del Parlamento fare una valutazione perché ci sono di mezzo i risparmi dei risparmiatori inconsapevoli che spesso non hanno nemmeno la responsabilità di non essere consapevoli il rischio è evitare di fare un processo alla Banca d'Italia la tua domanda è molto giusta perché ricordo a chi ci ascolta e che ci vede che in questo momento bisogna sostituire il direttore generale della Banca d'Italia che è il numero due sostanzialmente della Banca d'Italia perché Fabio Panetta è stato chiamato nel board della Banca Centrale Europea e io sono pronto a scommettere che su questa partita ci sarà grande bagarre politica perché è evidente che viene viene in un momento molto caldo abbiamo visto quanto è stato difficoltoso il rinnovo del mandato del governatore Visco ma non per scelta di questo governo ma perché la avversava Matteo Renzi quando era presidente del Consiglio sempre per la vicenda banca perché all'epoca era la vicenda Etrugia quindi bisogna fare una grande operazione di trasparenza perché le banche sono fondamentali in Italia perché su 260 miliardi di credito all'impresa 250 le imprese le prendono dalle banche quindi diciamo finiscono le banche e finisce l'Italia con grande trasparenza e grande concretezza però è arrivato il momento di fatto senza processi sommari all'Annotti o alla Banca d'Italia che sia senza processi sommari magari a chi dice che i conti sono toccati senza processi sommari ma nemmeno a finire a Taralucevino come è stata l'altra volta è come io ho premesso allora facciamo così avendo ben chiaro cosa dicevano quelli della Bari cosa dicevano Annotti cosa dicevano tornare da Fusaro ho proprio un flash le chiedo evitiamo di dare un segnale come se il sistema bancario italiano fosse in difficoltà veniva detto anche dai colleghi pensiamo che il grosso del sistema bancario italiano è solido e ha superato bene anche gli stress test ci sono dei casi isolati vanno affrontati come stiamo facendo ma attenzione perché il sistema bancario italiano per fortuna anzi Salvini ha detto giorni fa al Senato che addirittura ha messo meglio di quello tedesco non c'è dubbio e quindi attenzione perché dobbiamo salviamo le banche tedesche il BES eccetera sappiamo che due grandissime banche tedesche sono in grado di contatto è tutto collegato adesso però possiamo dire che il governo segue la linea di Salvini insomma lei è soddisfatto per questo vado da torno da Fusaro per chiedere a Fusaro dal suo punto di vista questa commissione bicamerale sulle banche arriverà a qualche risultato concreto o no dal tuo punto di vista ma ovviamente non ho la sfera di cristallo per fare previsioni certe mi limito a ragionare e a congetturare io credo che si arriverà sempre a una soluzione vantaggiosa per il sistema bancario e non per le classi lavoratrici e per i ceti popolari essenzialmente il sistema è tale per cui come già ricordavo si utilizzano i fondi pubblici per salvare le banche private il sistema è tale per cui alla fine vince sempre il banco in questo caso la banca letteralmente e quindi la previsione che mi sento di fare è quella per cui le sofferenze bancarie verranno sempre prima rispetto alle sofferenze dei lavoratori e dei ceti popolari e si darà la priorità al salvataggio delle banche e non dei lavoratori allenire le sofferenze bancarie non quelle dei ceti popolari nazionali e così via personalmente posso anche dire che io ho conosciuto e ho stima di Lannutti che nel settore mi sembra per quel che intendo molto preparato ed è uno che ha fatto delle giuste battaglie nel campo bancario quindi mi associa a quello che è stato detto poc'anzi mi sembra una persona competente ed è anche la prova lasciatemi dire del fatto che si sbaglia quando si dice che nel 5 Stelle non ci sono persone competenti non è vero Lannutti è sicuramente una persona che nel suo ambito è assolutamente competente e su quello va giudicata evidentemente